Medaglia di bronzo per noi, l'Italia batte il Belgio e vince la finalina di Nations League che per me lo premetto, non aveva alcun senso, però si gioca e vinciamo, vinciamo in maniera anche abbastanza pulita, buona, gol di Barella, fantastico, ottima Italia, anche se ovviamente contro il Belgio B, prima però di parlarne come sempre, iscrivetevi, commentate e se vi va lasciate qui sotto anche un bel like. Perché detto questo ragazzi, comunque, gara che mi è piaciuta, buona, anzi ottima Italia, che in difesa concede poco e che in attacco comunque riparte, lo fa bene, tante palle gol anche, magari non tante, però alcune palle gol non segnate, non concretizzate, per esempio Chiesa che per me è veramente un campione ragazzi, Chiesa è veramente la punta di diamante di questa Italia, però nel primo tempo si è mangiato un gran gol davanti a Courtois che poi ha fatto un miracolo, però diciamo che potevamo anche vincere 3-4-0, Italia, ripeto, molto buona, che comunque gioca bene, che finalmente fa una prova convincente dopo l'Europeo perché poi con la Bulgaria così e così, con la Svizzera uguale, con la Spagna hai perso, oggi invece vinciamo e ripeto vinciamo bene, ma comunque lo premetto ancora, per me la finale del terzo posto per la Nations League non aveva e non ha tuttora alcun senso, è totalmente inutile, però comunque ripeto, dal momento che si gioca ci sta a impegnarsi e ci sta a vincere, il Belgio era senza De Bruyne, senza Lukaku, quindi senza alcune comunque stelle, senza alcuni giocatori che ti cambiano completamente la squadra, però l'Italia mi è piaciuta, abbiamo fatto bene, mi è piaciuto molto qui intanto Kebbo, comunque mi è piaciuto tanto anche Bastoni che dopo la prova così e così con la Spagna, ripeto, ho detto 500 volte ripeto oggi, comunque, dissi qualche giorno fa, ho detto dopo la Spagna che Bastoni anche in quel caso, a parte l'errore, non aveva fatto una brutta partita, oggi invece ha fatto un'ottima gara, ha tenuto bene Bastoni, ha comunque fatto buona guardia, per me Bastoni non può giocare sempre titolare al posto di Chiellini, Chiellini ragazzi è quello che va messo nelle gare più difficili, per esempio se oggi al posto del Belgio ci fosse stata la Francia, nel senso se fossimo andati in finale vera, non l'avrei mai messo io, comunque perché, diciamo, Bastoni, perché ovviamente ragazzi serve uno più esperto, serve uno comunque col carisma, serve uno esperto appunto, che comunque possa tenere meglio la difesa rispetto a Bastoni, che è bravo, che comunque è un buon prospetto, ma che per il momento non è nulla di che, però Italia che vinci, Italia che comunque gioca bene, mi è piaciuta anche in difesa, pure se diciamo ragazzi qualche cosa abbiamo concesso un po' di troppo, anche il gol nel finale, evitabilissimo, Italia che passa in vantaggio nel secondo tempo col gran gol, bellissimo, veramente fantastico, di Barella al volo calcio d'angolo, pallone messo fuori, arriva Barella che col destro, sul primo pallo la mette dentro, beffato Courtois, poi rigore conquistato da Chiesa, fallo di Castagne, che per me c'è Chiesa, lo salta Castagne, fa fallo rigore di Berardi, Courtois la prende, con quella manona la impatta bene, ma per fortuna il pallone in qualche modo finisce dentro, gol 2 a 0, Italia che poi abbassa un po' la guardia, Donnarumma ci salva prima, e comunque evita il gol del 2 a 1, che però nel finale arriva a 5 dalla fine, quindi Italia che vince, Italia che batte, il Belgio, Italia che per me fa un passo in avanti importante rispetto alla partita vista con la Spagna, ma adesso serve veramente la vera Italia, serve l'Italia, umile, cattiva, affamata di Mancini, che deve prendersi queste, deve comunque vincere ragazzi, per quanto riguarda le qualificazioni ai mondiali, non si possono più fare errori, e adesso bisogna vincerle tutte, bisogna subito partire da novembre in poi, comunque ovviamente a raffica ragazzi, vincendo, 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 dobbiamo riprendere il ritmo che abbiamo avuto fino a praticamente lui, adesso come sempre, vi ringrazio per essere stati qua, vi ricordo che sarei contento, se commentaste in generale, però anche dicendo il vostro migliore in campo in questo match, per me comunque Chiesa, che nonostante il non-goal ha fatto una gara come sempre strepitosa, vi ricordo anche che mi farebbe piacere se vi iscriveste e se lasciaste qui sotto un bel like, ovviamente ci vediamo stasera con la finale con Francia-Spagna, ciao ciao! Ciao!